Mercoledì 12 ottobre, buongiorno, buongiorno regione, ben trovati nei nostri studi di Corso Sempione, li abbandoniamo immediatamente con una webcam, come sempre andiamo a visitare una località della Lombardia che stamattina è Casate Novo, anzi il cielo su Casate Novo, guardate che bella giornata, siamo in provincia di Lecco, vediamo se sarà una bella giornata su tutta la regione, andiamo a chiederlo a Roberto Grimaldelli dell'ARPA, buongiorno. Buongiorno, sì, oggi tempo stabile e soleggiato, però in presenza di aria fresca, infatti i rasserenamenti della scorsa notte hanno fatto diminuire sensibilmente le temperature, stamattina su tutta la regione cielo prevalentemente sereno, ma abbiamo situazione direi significativamente fredda, temperature in pianura tra i 3 e i 6 gradi, qualche foschia ho isolato banco di nebbia sul pavese e sul basso cremonese, ci vediamo più tardi per i dettagli sulle previsioni, a dopo.